Negli episodi precedenti, non è accettabile una flessione maggiore di 15-20 gradi. Le braccia entrano vicino alla testa per poi allungarsi completamente sott'acqua. Per avere una buona battuta di gambe, è necessario sbloccare le caviglie e distendere bene i piedi. La respirazione non è stato il primo argomento che abbiamo trattato, proprio perché dovevamo dare a tutti la possibilità di imparare le basi. Ora però che abbiamo imparato a nuotare lo stile libero con una tecnica decente, la respirazione è diventata l'abilità principale da padroneggiare. Partiamo subito con il dire che molti nuotatori si stancano perché effettivamente quando nuotano non sanno nuotare nella maniera corretta. È come se il loro cuore e i loro polmoni iniziassero a lavorare troppo velocemente prima che i loro muscoli si stanchino. Ecco allora che è importante capire sin da subito che il ritmo e la tecnica delle respirazioni nel nuoto sono differenti rispetto a qualsiasi attività nella vita. Noi siamo abituati a respirare secondo un ritmo regolare scandito in questo modo, ispiro ed espiro. Niente di più semplice. Quando poi duriamo fatica e siamo in affanno, logicamente il nostro ritmo di respirazione si velocizzerà, proprio perché i nostri polmoni sono sotto sforzo. Ma questo non è un problema. La respirazione per noi sulla terraferma è una cosa che viene in maniera innata, qualcosa che facciamo in maniera inconsapevole e automatizzata. In acqua però è tutto completamente diverso e la respirazione va acquisita. Per capirlo bene seguimi nel mentre che sto nuotando stile libero respirando ogni tre bracciate. Si vede molto bene come in ogni bracciata prendo aria e poi la trattengo fino a che raggiunta la fase di spinta della bracciata non la butto tutta fuori. Per respirare però correttamente è importante anche capire che il tuo corpo deve stare ben disteso, orizzontale e a stretto contatto con la superficie dell'acqua. Infatti, se guardi attentamente, quando respiro non giro troppo la testa. Errore invece comune a molti. Altrimenti rischierei di ribaltarmi su un lato perdendo così il giusto assetto. Quello che invece faccio per respirare è ruotare l'intero corpo così che non ci sia bisogno di ruotare in maniera esasperata la testa. Un esercizio molto utile per migliorare il controllo del corpo e della testa in respirazione evitando così di ribaltarsi è il seguente. Mentre batti le gambe di lato mantenendo bene l'assetto orizzontale prendi aria e fai una bracciata per girarti dall'altra parte. Dopodiché prendi di nuovo un bel respiro e così via. Fare questo esercizio è molto importante perché quando andiamo in respirazione è facile che le nostre gambe tendino ad affondare facendoci così perdere il giusto bilanciamento e la nostra capacità di galleggiare. Insomma, il nuoto è un gioco dove tutto sta nel capire come mantenere la calma quando i nostri polmoni sembrano scoppiare. Sì, perché quando nuotiamo il livello di CO2 nei nostri polmoni aumenta e se non siamo in grado di rimanere calmi controllando al meglio il nostro respiro finiremo per andare subito in affanno ed essere costretti a fermarsi per mancanza di ossigeno. Un modo per imparare a controllare meglio l'assenza di ossigeno è iniziare a respirare ogni tre bracciate poi ogni quattro, poi ogni cinque fino ad arrivare a fare dieci o più bracciate senza respirare. Deve essere fatto però in progressione. Prima abituati a lavorare su una vasca da 25 metri magari respirando ogni tre bracciate e poi solo successivamente quando sarai a tuo agio inizia a aumentare la distanza e diminuisci il numero di respirazioni. Concentrati e nuota lentamente pensa solo a rilassarti non ti preoccupare se ti sembrerà di nuotare più lento del solito è normale ed è ciò che serve per migliorare la tua respirazione in questi tipi di esercitazioni infatti la velocità non è un parametro che conta vedrai che quando avrai imparato a controllare il tuo respiro sarai in grado di nuotare fino a quando le tue braccia e le tue gambe non si arrenderanno. spero veramente che questo video possa esserti d'aiuto se vuoi quindi migliorare la tua tecnica di nuotate e la tua respirazione grazie a un percorso estremamente personalizzato ti invito a cliccare nel link in descrizione e accedere al nostro sito continua a seguirci lasciaci un bel mi piace ed iscriviti al canale nel prossimo episodio ma molte persone non sanno che c'è una breve pausa nella rotazione questa pausa ti permetterà di eseguire un rollio migliore e quindi nuotare più velocemente l'intero corpo non ruota tutto nello stesso momento o con lo stesso angolo farlo è un grosso errore grazie a tutti